Ben tornati da Paolo Corazzone a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo, ci riferiamo oggi alla giornata di sabato, giornata che vedrà parecchie nuvole insistere sul nord Italia e sulle regioni terreniche con anche qualche pioggia, situazione migliore invece sul versante adriateco e al sud. Tra poco entreremo nel dettaglio, cominciamo però a dare un occhio alle temperature, valori minimi pressoché stazionari un po' in tutta Italia e continuiamo a rimanere leggermente al di sopra delle medie del periodo. Anche le massime risultano miti un po' ovunque, per essere a novembre insomma sono valori questi ben al di sopra della norma, superiamo nuovamente i 20 gradi. Ora entriamo nel dettaglio per quanto riguarda il tempo, dicevamo al nord giornata piuttosto nuvolosa con piogge diffuse, però col passare delle ore le piogge tenderanno a spostarsi verso le Venezie, mentre qualche schiarita si farà avanti sulle regioni nord occidentali. Nell'Italia centrale nuvole soprattutto sul versante tirrenico, mentre su quello adriatico rimarranno ampie le zone di sereno, dalla parte tirrenica invece non escludiamo anche qualche goccia di pioggia che potrebbe spingersi anche fino all'Umbria. Infine un'occhiata alle regioni meridionali dove il tempo sarà sicuramente migliore, però in campagna verso sera potrebbe arrivare qualche goccia di pioggia e al mattino qualche locale piovasco potrebbe insistere sulla Sardegna. Con questo è tutto, aggiornamenti in tempo reale anche su Facebook e Twitter alla voce Trevi Meteo.